Consiglierai i corsi di produzione hip hop a praticamente tutti i ragazzi che hanno un grande sogno e vogliono riuscire a trasformare una passione nella loro vita, nel loro lavoro. Sono Andrea, ho 22 anni e vengo da Muzzate, provincia di Come. Mi sono appassionato alla musica hip hop, torno ai 15-16 anni. I primi artisti che ho ascoltato sono stati Sfera, poi Tedua, Easy, insomma tutta quella wave 2016, trap. Ho scoperto produzioni hip hop grazie a post su Instagram, semplicissimo. Ho cliccato sul link, ho fatto questionario velocissimo. Poi mi hanno ricontattato e parlando con i ragazzi condividevano l'idea che voglio portare avanti anch'io nel mio percorso. Sono entrato a far parte di questa grande famiglia. Le varie tecniche che mi hanno aiutato di più sono state sicuramente la compressione, l'equalizzazione e la saturazione. Consiglierò i corsi di produzioni hip hop a praticamente tutti i ragazzi che hanno un grande sogno e vogliono riuscire a trasformare una passione nella loro vita, nel loro lavoro.